TSO, trattamento sanitario obbligatorio, che non è un trattamento per scabbia o per infestazione o per un virus dilagante. Il trattamento sanitario obbligatorio consiste nel trattare il sistema neurale di una persona, di un essere vivente, di un'anima. E questo è successo ad un ragazzo di nome Sandro Bartuolo, conosciuto in rete come Bart, per aver detto che di essere sovrano alla presenza dei vigili urbani, lui vendeva dei manufatti, alla presenza dei vigili urbani si è dichiarato sovrano. Ora il problema non è tanto nel dichiararsi sovrano o meno, perché sovrani significa essere sopra, superiori, il termine proprio sovrano. Non è tanto la parola sovrano. Qui il problema è che i vigili urbani hanno, attraverso poi le sequenze, no? Vigili urbani, carabinieri, sindaco, ordinato una restrizione, un rapimento, una sottrazione di un'anima per aver detto sovrano. Cioè qui dobbiamo stare attenti a cosa diciamo? Ordinare un trattamento sanitario, obbligatorio, quindi sedativi, psicofarmaci e chissà, elettroshock. Si è tentato in ogni modo di contattare, di cercare di avere udienza da questo ospedale in cui è Barth. Niente da fare. Il problema è che il TSO è un provvedimento estremo, estremo. Il problema è che non devi essere sano di mente, devi fare cazzate su cazzate, devi essere regitivo, devi fare delle cazzate, ma non perché uno ha detto sono sovrano. Ok? Sono sovrano. E allora? Anche se il termine sovrano vuol dire altro. Magari avrà detto sono sovrano e non voglio sottostare alle leggi della Repubblica, ex Repubblica Corporazione. E il vigile ha detto questo è matto. Perché? Perché non c'è informazione. Perché se Barth avesse detto no, io non sto vendendo nulla. Scambio. Non arreco danno a nessuno. Uno scambio. I miei manufatti in cambio di una busta di arance, di mandarini, di finocchi, di fave. È l'azione illegittima, aberrante, trattamento sanitario obbligatorio per aver detto, per aver espresso la propria libertà. Ed è qui che si tenta di far vivere nella paura, nel terror. Dice, cazzo, ora sono sovrano. Se mi comporto così, se mi comporto in questo modo, ho il rischio di subito di subire un trattamento sanitario obbligatorio. Siamo arrivati a questo punto, per far vivere nella paura. Siamo arrivati a questo punto. Dov'è la libertà? Questa è una violazione dei diritti umani, nella corte europea. Questo è schiavismo. Queste pratiche venivano effettuate agli schiavi. e noi siamo schiavi. Non abbiamo la libertà di espressione. Non possiamo esprimere liberamente la nostra idea, la nostra ideologia, la nostra volontà. Ma stiamo scherzando. Ora che cosa accadrà? Bart, come ne uscirà? Indenne, normale, rincoglionito. Questo deve essere un precedente, ragazzi. Ma non si fa in questo modo. Di stare a guardare. Dico, va bene, vediamo che cosa accade. Se effettivamente si voleva almeno ridurre, ridurre, cazzo, le pene di questo ragazzo. Era da andare tutti in massa. Tutti coloro che credono in se stessi, nella sovranità, era da andare lì sul posto. E dire, siamo sovrani. Abbiamo le bancarelle. Non stiamo vendendo. Stiamo effettuando baratto. È legale. È illegale. Si può fare, sì. questo creerà sicuramente il precedente. Io mi auguro con tutto il cuore che Bart ne esca indenne. State attenti, ragazzi. Ora, state attenti a cosa dire. Sovran... no. Sovran... No. 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 Perché non si può dire. A chi non ne ha conoscenza. Io sono sovrano, non... la Repubblica. Per questo, prima di dire che bisogna essere sovrani, bisogna dare tantissima informazione.